La visione cinematografica dell'incendio dei mattoni delle fabbriche di carne in scatola a Chicago fa pensare all'inferno dantesco. Otto gruppi di fabbricati sono andati distrutti fino alle fondamenta. Migliaia di buoi sono arsi vivi. I danni di questo colossale incendio si fanno scendere a 10 milioni di dollari. Grazie a tutti.